È certo un primato che non fa piacere conseguire alla regione Campania, prima in Italia, per numero di domande presentate per accedere al reddito di inclusione. In totale nel paese sono state 75.885 le domande pervenute all'Inps nel periodo tra il 1 dicembre 2017 e 2 gennaio 2018. La Campania, come dette, è prima con 16.686 domande, il 22% del totale, seguita dalla Sicilia con 16.336, 21,4 e al terzo posto, altra regione del sud, la Calabria, con 10.606 richieste, pari al 14%. All'opposto, nella graduatoria, si situano la Puglia e la provincia autonomo di Trento, da dove non risultano trasmesse domande, mentre alla provincia autonomo di Bolzano le richieste arrivate sono solamente otto. Il numero di domande trasmesse sembra rispecchiare grossomodo lo stato del paese, con un sud che continua a mostrare i segni della crisi, con un alto numero di poveri ed un nord in cui prevale la tranquillità economica. In ogni caso, la misura prevederà un beneficio economico erogato attraverso l'attribuzione di una carta prepagata emessa da poste italiane. Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di sostegno per l'inclusione attiva alla SIA, già percepite. L'ammontare dell'importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, complessivamente, non potrà superare quello dell'assegno sociale, ossia un contributo economico fino a 485 euro al mese per le famiglie più numerose. L'erogazione del contributo sarà inoltre vincolato e condizionato ad un accordo tra il cittadino e gli enti locali, basato sull'impegno a seguire un progetto personalizzato che miri a far uscire l'intero nucleo familiare della situazione disagiata e che prevede, tra le altre cose, anche l'omblico di mandare i figli a scuola ed accettare lavori o seguire corsi per un'eventuale formazione professionale. Purtroppo, e lo si sapeva, la Campania, il Sud, sono le aree su cui questo meccanismo del reddito di inclusione sappiamo che avrebbe avuto una presa maggiore, viste le condizioni sociali ed economiche delle famiglie e delle persone. Comunque non è finita qui, si parla di fine del bando il 2 gennaio, ma si può ancora accedere? Certo, nel senso che è una misura che attesta una condizione soggettiva del nucleo familiare dato dal DISE che è questo indicatore di natura patrimoniale e appunto la misura vive nel tempo per 18 mesi per nucleo familiare fermo restando poi una sospensione della misura stessa per 6 mesi e l'eventuale riproposta della domanda. Vi avete avuto un po' il termometro della situazione, tutti i CAF aperti e anche la vigilia di Capodanno veniva la gente? Sì, sì, nei giorni tra Natale e Capodanno i nostri CAF nelle nostre sedi di tutto il territorio della provincia sono stati, non dico assaltati, però c'era questa ansia di portare a casa l'ISE e poi rivolgersi ai servizi sociali dei vari comuni per presentare la domanda. Meno di 500 euro, basta questo per dare dignità? Assolutamente, noi l'abbiamo giudicata in maniera positiva perché si pone la questione di una misura universale per la prima volta però è chiaro che è una risposta non sufficiente sia per quantità ma anche per qualità perché credo che solo ripensando le misure di sostegno di welfare cosiddetto si può costruire una misura reale che tenga conto delle condizioni reali e soggettive delle famiglie.